ciao il mio nome è nastia ciao il mio nome è stessi io mi rifaccio il letto tutta da sola io mi lavo i denti due volte al giorno io sono educata grazie ok ok io ora lavo i piatti è sufficiente non ho tempo oh no oh no Io non farò proprio nulla! Io sistemo la mia stanza! Io faccio i compiti da sola! Io mangio cibo sano! Grazie, papà! Oh, questo è il mio cane! Proprio come l'ho sognato! Dov'è il mio regalo? Lo voglio anch'io! No, i regali sono solo perché ha un buon comportamento! Bambini, voi a chi assomigliate di più a Nastia o a Stacy?